I condizionatori delle nostre case Traffico stradale, special modo di camion E i pullman, e molte automazioni industriali Producono infrasuoni, ma una delle più pericolose fonti Infrasuoni che restano gli aerei Tra gli effetti collaterali dell'ordiana tecnologia E che essa è una fonte quasi infinita di infrasuoni In alcune ricerche si è dimostrato che ogni parte del corpo Possiede una frequenza di risonanza In corrispondenza della quale Fra suoni possono avere particolari conseguenze In corrispondenza della quale In corrispondenza della quale